Sara Di Vaira e Selvaggia Lucarelli non sono certo amiche. Anzi, qualche settimana fa durante una puntata di Ballando con le stelle poco dopo che Guillermo Mariotto aveva dato a Selvaggia Lucarelli della scimmia arrabbiata che lancia gli escrementi, Sara Di Vaira aveva richiesto la parola per dire alla giudice di non offendersi, dato che anche lei in passato aveva dato a Rossella Erra del fenicottero, criticando il suo modo di vestire. Dichiarazione che aveva lasciato un po' perplessa la giornalista che giustamente aveva sottolineato come «fenicottero» non fosse un termine offensivo. Due giorno dopo quella puntata, Selvaggia Lucarelli a mente fredda era tornata all'attacco puntando proprio su Sara Di Vaira. Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi. È anche l'unica persona di tutto il cast fisso di Ballando con le stelle che il giorno dopo il mio lutto non mi ha manco detto, condoglianze, Simone e Rossella invece, subito gentilissimi. L'unica, anzi quella sera stessa ha solo tentato, come sempre in vano, di provocarmi e litigare in puntata. Sara Di Vaira nel mirino di Selvaggia Lucarelli. Quella battuta sulla gallina. Fra scimmie e fenicotteri. Selvaggia Lucarelli sempre via Instagram aveva anche ricordato una battuta infelice che Sara Di Vaira aveva fatto nei suoi confronti durante l'ultima edizione del Cantante Mascherato. Febbraio 2022. Quando cercando di indovinare chi si nascondesse sotto la maschera di gallina. Aveva detto. La signora ha detto, è una gallina può essere solo selvaggia Lucarelli, con amore selvaggia. Con amore. Ma come mai la Di Vaira ce l'ha con la Lucarelli? A darci una possibile risposta almeno sugli ultimi fatti avvenuti è stato Davide Maggio. It su Twitter. E comunque una cosa devo dirvela. La Di Vaira era stata scelta per prendere il posto di Selvaggia Lucarelli quando pensavano che si sarebbe assentata per la morte della madre. E' comprensibile l'avvelenamento della ballerina. Pensava di avere svoltato. E' comprensibile l'avvelenamento della ballerina. Grazie a tutti